Il cinghiale bussa la porta nei quartiere cresce, la preoccupazione, la fauna selvatica si sta spingendo dentro il centro abitato, varcando ogni confine, in particolare una famiglia di cinghiali da giorni in circolazione sembra aver trovato casa nel quartiere sul monese di via Piave e via Esonzo dove gli abitanti trascorrono intere giornate con il terrore degli incontri del terzo tipo, le colture sono andate distrutte, almeno la maggior parte di esse per i residenti scatta la psicosi, personalmente ho paura fin anche di raggiungere fondaco, commenta una donna, mentre la vicina di casa, trovandosi lungulato nelle pertinenze della sua abitazione, ha chiesto l'intervento dei forestali. I militari sono intervenuti per constatare la situazione, ma il fenomeno di fatto resta diffuso poiché si rende necessario un provvedimento della massima autorità sanitaria. Da almeno due settimane gli ungulati stazionano nella zona con comparse di giorni e di notte che non lasciano per nulla tranquilli i residenti, la massiccia presenza nei giorni scorsi ha danneggiato anche un terreno sportivo di Prato La Peligna dove si allena una società. Insomma la vicenda rassente il paradosso, nessuno fa nulla, tra poco il cinghiale sotto casa si prenderà anche un caffè.